Io perdo l'emezionità di marzo, di aprile e anche quella di maggio, perché a maggio ha fatto freddo. I titolari dei negozi di abbigliamento fisici sembrano quasi degli Highlander che devono combattere con il clima che ormai sta sottigliando sempre di più le mezze stagioni e con la costante minaccia dell'online. I negozi fisici stanno diventando ormai quasi dei camerini per quelli online. Sì, questo avviene continuamente. Che possiamo fare? Non possiamo combattere il mondo di internet, di Google, non possiamo combatterlo noi piccoli negozianti. Sarebbe favorevole a far slittare i saldi se ne è parlato? No, io non sono favorevole perché ormai è tutto in vendita promozionale. Se non si è in vendita promozionale non ha senso sblittare i saldi al 20 febbraio, ho sentito, e al 20 agosto. Per me no. È un problema che esiste da qualche anno. Noi abbiamo una clientela che ci segue da tanto tempo, però abbiamo notato anche dei cambiamenti in quest'ultimo periodo. Questi cambiamenti dovuti al tempo, questi cambiamenti climatici, però anche le abitudini cambiate dopo la pandemia hanno sicuramente modificato l'approccio rispetto agli acquisti. Purtroppo sta diventando tutto sempre più difficile. Bisogna mantenere un certo tipo di professionalità, l'accoglienza al cliente, accoglierli con un sorriso e insomma tenere testa, anche se dura diciamo, soprattutto in questi periodi storici, a tutto quello che comunque poi è il mercato online e tutto quello insomma che lo guarda intorno.